Alla fine le tanto temute nuove norme anti-smog sono da oggi in vigore. Tra queste lo stop per sei mesi, cioè fino alla fine di marzo, agli Euro 3 con divieto di circolare da lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30. Una misura molto stringente che in Lombardia si traduce nella messa al bando di 971.000 veicoli. A Cremone invece saranno coinvolti più di 4.000 mezzi, che uniti a quelli delle classi tradizionalmente fermate, ovvero Euro 0 benzina, Euro 0, 1 e 2 diesel, portano a circa 11.000 il parco veicoli destinato a rimanere in garage. A questo riguardo non sono mancate le polemiche veicolate e ampliate dai canali social. Di certo le misure colpiranno una larga fascia di popolazione, costringendo di fatto la sostituzione dei mezzi, soprattutto categorie come i liberi professionisti e gli artigiani, che infatti sono le più preoccupate. Le limitazioni della circolazione si applicano su tutti i tratti stradali situati nel territorio comunale, comprese le strade provinciali, statali ed esclusione delle autostrade. La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da 75 a 450 euro.